Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video, un saluto da GG ed oggi siamo qui ritornati su Fortnite per perdere il rank Elite Perché sì, andremo a giocare con solo cecchini in Ranked Prima di continuare con il video, probabilmente come al solito io ricordo di utilizzare il mio codice creatore GGYT Tutto grande, tutto attaccato alle qualsuggetti di Fortnite Mi raccomando ragazzule, è davvero fondamentale per supportarmi Quindi controllate sempre che su supporto a un creatore ci sia scritto GGYT Tutto grande, tutto attaccato anche perché ogni due settimane il codice scade e dovete reinserirlo Grazie per lo di cuore a chi lo farà, è davvero fondamentale per supportarmi Iscrivetevi al canale se ancora non l'aveste fatto Lasciando a me il mi piace per supportare questa tipologia di challenge e consigliatemene altre da fare sotto nei commenti Ora vediamo un po' cosa riusciamo a combinare Allora ragazzi, non mi invento niente di troppo strano Nel senso che finché non trovo un cecchino io gioco normalmente Mi prendo le armi e tutto quanto, sennò regà veramente sarebbe troppo complicato Però chiaramente me le vado a cercare dove sono le valigette delle armi Visto che lì spesso e volentieri i cecchini li mettono Chiaramente mi converrebbe andare sotto da Jonesy Ma già ci va davvero tantissima gente in generale, figuratevi in Ranked Di conseguenza proverò ad andare qui Dove c'è questa casetta dove teoricamente dovrebbero spawnare due o tre valigette Con la fortuna che abbiamo troveremo le migliori armi del mondo ma non il cecchino Il problema regà è che mi segna un botto di gente Ma io spero stiano andando tipo a scalì No, 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 questi stanno a venire dritti qui Molto bene, molto bene, sono contento Allora facciamo una cosa stupidissima facciamo Ovvero puntiamo Ah, ha giampato giustamente se n'è andato questo Non si è preso niente perché non c'era niente regà Non c'era niente Però raga ho visto qualcuno atterrare qua, eh Sì, ho voglia, più di qualcuno Questo già bello, già bello solido Già bello con lo shield, già con tutto Possibile che ce n'è tutta sta gente qua Ma non me lo sarei proprio mai aspettato Ma qua è nei dintorni soprattutto Vabbè, perfetto Vabbè, tanto avevo la corona nel senso Lo sapevo che questa era una partita così Tanto per perderla Vabbè, proviamo di qua In quella sorta di fabbrica mezza abbandonata Che lì insomma ce ne sono poche di valigette Però vediamo un po' Anche perché se tutti i punti con le valigette Sono così puntati qui in Elite Dove vado vado, atterro male praticamente Oh raga Prima chest subito cieco Incredibile Mi segna anche che qualcuno sta Che sta piccolando facendo cose Mi sa che ha atterrato qua nei dintorni Dobbiamo stare attenti, eh Madonna, miglior chest non poteva esserci Abbiamo trovato anche le impulsi E comunque saranno fondamentali oggi come movement Cioè letteralmente oggi se mi pusha qualcuno Mi tocca scappare Cecco, 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 cecco Con un mirino piccolino Perfetto Oggi mi servirà un po' di varietà Per quanto riguarda i mirini dei cecchini Vabbè, queste altre sono altre armi Nel dubbio apro Ma chiaramente non posso prenderle Eh vedete raga Mi continuo a segnare Picconate o comunque spari di là Diciamo che comunque come challenge Sarebbe da fare molto più facilmente in no build Però le ranking no build Mi sa che non le ho proprio giocate in sta stagione Forse uno o due partite E poi diciamo che comunque volevo dare un po' di pepe Alla challenge Il problema è che nel momento in cui Hitto qualcuno Chiaramente quello si può buildare E se non l'ho ucciso Eh non è che lo posso prendere e pushare Perché col cecchino dove vado Devo comunque rimanere a distanza Ah là sopra raga questo sta Vabbè io ci ho provato Dovesse uscire il colpo della vita Ok raga No che stupido Questo era abbastanza easy come hit E questo era abbastanza easy come headshot Mannaggia a me mannaggia La devo prendere un po' più di calma Ma pensavo si stesse chiudendo il box E invece era rimasto aperto per un po' Io devo stare anche attento a come uso i colpi Perché mo ho detto prendo e hito tutti Ma in realtà i colpi cecchino Soprattutto quando ne hai i due Se ne vanno via come non nulla Eh ok ragazzi Sta scappando quello Sta scappando È quello che abbiamo hitato Ma stava comunque continuando No Stava comunque continuando a pushare L'altro invece sta ancora lì dentro Oggi faremo tanti commenti dei fight altrui Perché io cercherò di stare a distanza E di rubare qualche hit di qua e di là Allora eccoli lì ragazzi Ok va bene Ok quello gli è entrato nel box Gli ha rotto lo shield E mi sa che se l'è bombato Sì se l'è bombato ragazzi Però rimane lì dentro le strutture Quindi per noi inarrivabile Eh ragazzi per me sarebbe fondamentale Andarmi a prendere le Come si chiama Le Le tempeste Quindi la La torre radio Però Potrebbe anche essere Un po' pericoloso Allora per carità Sono il primo che quest'oggi Non vuole fare una partita Troppo aggressiva Perché non me lo posso permettere Però ragazzi Mi sono fatto una buona porzione di mappa E non sto beccando nessuno Neanche da lontano Ok mazzo ho parlato Eh però mi sa che è qualcuno Che si sta cercando Di uccidere Valeria Eh raga io se trovo colpi Però mi devo un attimino Fermare a lutarli Sì è qualcuno Da Valeria Attenzione Let's go E il primo È andato Signori Questo voleva fare il furbetto Con quello che si sta Killando Valeria Però ovviamente Non mi posso permettere Di pushare Andare lì Quindi per adesso Noi ci facciamo gli affari nostri Nel dubbio Prego Prego Tra iardino Che stai killando Valeria Per prenderti la sua mitraglietta Che io Puro attenendo Non riuscire Non potrei utilizzare Ok raga Aspettate Potrebbe essere No 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 Ho perso l'occasione Eh vabbè Ha corso Eh perché lì Stava andando lentamente Poteva essere Un buon momento Per provare a cecchinare È andato palesemente sotto A prendersi Il loot Del bunker Che poi io regà Non mi sono neanche fullato Cioè per esempio Ovunque sono andato Ragazzi avevano già lootato Cioè è incredibile Eh raga Ah Ne è rimasto solo uno Però Stavo per dire Mi ricompro gli shield Però Ne era rimasto solo uno Vabbè Ma infatti a sto punto Mi dovrei andare ad aprire La scorta ragazzi Però guardate Do sta lì a rotaie Cioè è abbastanza rischiosa La situazione Citando proprio Il nome di rotaie Non mi sembra proprio La scelta migliore In una partita In cui sto usando solo cecchini E vi dirò In realtà la cosa Che mi preme di più attualmente È trovare altro movement Quindi o altri impulsi O un rampino Cioè per me sarebbe Fondamentale Regà Poter scappare In certe situazioni Perché io l'uno contro uno Da vicino Non lo posso reggere Cioè dovrei pensare Solo a scappare In quei momenti Eh raga Quello mi sa che Eh quello mi ha Mi ha visto Ha visto comunque Quel bagliore del cecco E lui ha provato A sua volta A cecchinare Ok Ok Eh ma il bro Mi sta Palesemente puntando Pensavo Entrasse questo colpo Vabbè Mi piacerebbe anche Modificarli Sti cecchini Eh vi devo dire la verità Però Alla fine della fiera Non mi posso neanche Lamentare Allora Qua potrei godere Parecchio Uh c'è qualcuno Gli sta riandando alle spalle Mi sa eh Oh no Ho visto male Ho visto malissimo Ho visto malissimo No invece si Invece si Invece si No 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 Ho visto bene Ho visto Uh 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 Lo stanno proprio pushando Lo stanno proprio pushando Di brutto Allora fermi un attimo Devo prendere un'angolazione Buona per provare a cecchinare O lui O il O la No che è il compagno O l'avversario Mm Eh no rega Non Stalbero maledetto Stalbero maledetto Guardalo guardalo Lì si sta curando Ok Dai ragazzi Scopritevi Eh vabbè Si stanno curando Tutti e due Guardate No Eh mo che ho sparato Una volta raga Questi si copriranno Di continuo Invece no Ho 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 provato a Predictare il suo movimento Verso sinistra Due volte Come un pollo Come un pollo Due volte ho pensato Eh l'ha killato Uno dei due Che l'ha killato Eh Eh Io spero abbia vinto la sirena Perché la nisha sapeva No non era la sirena Scusate Oh vabbè ho capito C'ho sempre l'isola vicino Raga Il ranked mi spona sempre vicino Che sarebbe buono me cosa Perché prenderla son punti Però Io In ste partite Non è che posso Permettermi Quello Eh vabbè Mo torniamo alle cose nostre Torniamo alle cose nostre Ok Il bro si è ricordato di me Il bro No lì che c'ha la jump Mi se c'ha la jump lì Mamma mia Raga Ci avrei scommesso Quello che volevate Che fosse dentro sto colpo Ma raga Cioè ma riesce A richiudere la cosa O no Vabbè No 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 Se mi punta però Io me ne vado raga Eh ripeto Non Non posso permettermi il fight Ma proprio Per nessuna ragione Al mondo Allora Qui però c'è un'altra scorta Che io Vi dico la verità Vorrei provare Ad aprire Nel dubbio Anche per prendermi Dei colpetti Insomma potrebbe essere utile Anche comunque Non è che siamo messi Proprio bene Allora in realtà Attenzione Delle impulsi Stavo per dire In realtà ragazzi Qui pure dovrebbero esserci Delle Valigette Se non sbaglio Raga Però vi giuro Io non riesco mai A regolarmi In questa Ah ok No Meno male ci stanno le frecce Una freccia segnava di qua Mi sa che era questa Eh sì Era questa la stanza Con le valigette E Niente Insomma Se avessi trovato Un altro cecchino Magari non verde Ma di qualche altra rarità Me lo sarei preso Comunque Scorta aperta Va bene Ci sta Comunque nel dubbio Top 10 Raga Va bene No 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 Mi sa che è quello Col medaglione Sì Eccolo col medaglione E Ok No Ciao bro No Ha riuscito a prendermi Ma quanto ci ha messo Ad esplodere La granata onda d'urto Eh raga Mi sono fatto ingolosire Me ne dovevo andare Dopo avergli tirato La prima hit Ma mi sono fatto ingolosire Ho tentato la kill Della vita 4% Allora io nel dubbio Provo a riandare lì Ragazzi Perché mi è sembrata La situazione più tranquilla Sì La situazione più tranquilla Le ultime parole famose Ma è possibile Eh raga Quello mi ha Totalmente Anticipato Ma di brutto Qui però c'è un pump Eh beh Eh beh Eh beh Un po' di fortuna Pure a noi Lui comunque Il pump L'ha trovato Perché i miei nemici Allo start Comunque nel dubbio Il pump Lo trovano Non è quello il dubbio Diciamo anche Che comunque Io ci sono atterrato Perché il pump L'avevo già visto Quindi ci può stare Il cecco qui Comunque ci sta Vabbè Con il mirino Che odio più di tutti E questa cosa un po' Mi dispiace Però ci dobbiamo accontentare Eh il problema raga È che non posso giocare Solo con questo Cecchino qui Con questo mirino Fosse stato già uno Dei mirini Che preferisco di più Pure pure Ma così no Bene Ci abbiamo anche La taglia qui vicino Perché comunque A riprova che Un sacco di gente Questo capitolo 5 Va tut Si fa tutta la mappa Cioè in ogni angolo Della mappa C'è comunque qualcuno Oddio raga Proprio ho trovato il rampino Va benissimo Va benissimo Va benissimo Ok 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 Cecco cecco No il gendarme Mamma mia Comunque ho letto nei commenti Che non sono l'unico Che confonde il nuovo assalto Gendarme Con i cecchini È incredibile A terra sembrano Veramente la stessa arma Poi vabbè Guardandolo bene Te ne accorgi Che non è proprio lui Però insomma Stiamo là Oddio No ciao bro Ciao 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 Ciaoone Ciaoone Aggrappati Grazie Ok mi sa pure Lui non è che Avesse troppa intenzione Ma lui pure Si era tipo tutto boxato Come mi ha visto Si è totalmente boxato Regà Allora aspettate un attimo Va perché magari Io sono scappato Lui non se l'aspetta Invece gli rimango qui Oddio raga Ma lì c'è Oddio che è un cecchino È un cecchino Oh mio dio Ma questo è un altro ancora però Non è lui Non è quello di prima Raga Ma che è qua È campo candidi Ma col cavolo Campo camperoni Che poi per carità Nulla contro i camperoni Sono il primo però Che si sta anche curando No non si sta curando No sapete che cosa stava a fa' Allora aspettate un attimo Stava usando le Come si chiama La boccia qua La spuma E poi ha usato le impulsi E meno male perché Se avesse usato solo le impulsi Probabilmente sarebbe stato Più rapido nel venirmi Nel venire verso la mia La mia posizione Comunque questo è il loot Che volevo Tranne che volevo Un minino diverso Su questo Volevo un minino diverso Su questo Quindi volevo proprio Delle modifiche un po' diverse Però per il resto Così sarebbe perfetto Doppio movement Un minino un po' più da vicino Un un po' più da lontano E ci sta La cosa che non ci sta È che non ho capito Quanta gente C'ho qui a campi E sono tutti mezzi camperati Però tanto Mo ci dobbiamo muovere tutti Ragazzi Quindi Spero di non beccarmi Qualcuno addosso No raga passi No 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 Che poi Questo palesemente Sta cercando qualcuno Da pushare Non ho capito Ma abbia fatto A non sentirmi Ok Eccolo laggiù Eh Allora Ci può stare Provare a cecchinarlo Eh Però certo Così in mezzo agli alberi Laggiù Eh no Diventa un po' complicato Sta slidando da mezz'ora Kakashi slidone Ma che è Allora regà Mi ha segnato degli spari E in realtà Vi devo dire Vediamo Ah no Porca miseria Però non pensavo Stessero fightando Proprio qua così Ok Ok Totalmente sbagliato Per me eh Non Non devo fare cose Di sto tipo Però Volevo anche un pochettino Fightare Cioè mi sto Anche un attimino Annoiando Ad ucciderle Non l'ha ucciso Perché non ho avuto Notifiche di kill Però Eh vabbè Eh sì Si sta curando del tutto Eh vabbè Eh andiamo Ce ne va Ho capito Incredibile Come arrivo io Si boxano immediatamente No poi raga Più che altro Non ho neanche tanti colpi cieco Quindi Non è che posso mettermi qui A cercare cecchina A chiunque Purtroppo Vediamo se riusciamo a trovare Alche colpo cieco Nella Nella scorta Dubito Oh 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 Abbiamo trovato il cieco Perfetto Perfetto Ok va benissimo in realtà Mmm Sì Ci sta Però non mi ha dato i colpi Possibile Se sono castrati sotto Beh vabbè Sei colpi Bene Meglio di niente Per carità Però Stam fightando anche lì Ok E proviamo ad andare a vedere Raga Dai su Eh raga Stam fightando di brutto No Mannaggia E' il kakashi Allora Facciamo una cosa Effetto Ok E si scappa Come Non si è mai fatto prima Mamma mia Raga Eh vabbè È molto utile Oh mio dio Ci abbiamo anche qualcuno qua Sulla destra Oddio ormai Sì sulla destra Anche se inizialmente Era sulla sinistra Ma io non credo che il kakashi Mi abbia Raga non si è accorto di me Raga non si è accorto di me Raga ce ne voleva eh Per non accorgersi di me Cioè stavo qui letteralmente Nel nulla Con La spuma Tutta attiva Cioè ce ne voleva veramente eh Per non accorgersene Allora C'è l'isola Perché tanto Vabbè no 200 metri Ci sta Dal suono sembrava molto più vicina Allora Dove è andato Mo sto kakashi Eh perché comunque Sempre qua nei dintorni Starà eh Niente oh Come volevo sparare a qualcuno Bam Arriva a rompiscatole No Dai Vabbè comunque Veramente ogni volta Le macchinette in ranked Sono tutte sempre senza scorta eh Ma questo sempre a riprova Che su sto cavolo di gioco In questo capitolo È impossibile trovare shield Oppure Importanti Quindi io nel dubbio Mi frego questa Dovrebbe essere parte Del loot Del 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 treno Quindi probabilmente qualcuno Avrà conquistato il treno Questo è il gendarme Vabbè Allora in realtà Sono venuto verso di qua Che c'era altra robettina Interessante Come cespugli E fenditure Però C'è pure l'isola Vabbè Scappo verso di là Va Anzi Mi sto facendo problemi Ma posso prendere direttamente Una fenditura Vai va Cioè raga Ma veramente qualcuno Si è piazzato lì così Sul serio Qualcuno si è piazzato lì così Oh mio dio Eh vabbè Mi stanno provando a sparare Dall'isola Uh occhio No Mannaggia la miseria Mannaggia Guarda 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 Quello si è editato lì così Non so se Non so se c'è ancora Ma io penso proprio di sì Ok raga Questo è quello che volevo A cui volevo sparare prima Ma dai No 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 Ok no Sta planando Di là Ok Madonna Quanto ho mirato male Sta botta Mi sto facendo prendere dall'ansia Ragazzi Mi sto facendo prendere dall'ansia Perché so che il cecchino È l'unica cosa che posso utilizzare In sta partita Quindi mi sto facendo Proprio prendere totalmente dall'ansia Devo stare un po' più tranquillo Un po' più scereno Ma quello che sta a fare Un canguro Ok No no Dai ma guarda Oh ma guarda Cioè non si coprono Ma riescono comunque A essere leggermente coperti Dalla mia visuale È pazzesca sta cosa Dici sai Se boxa È coperto tutto No Così E però rimane comunque coperto da me Eh raga mi sa che quello lì L'ha chillato A quell'altro Mamma mia Let's go Così Con calma Con molta calma Eh tra l'altro c'ha un bel cecchino viola Credo che Glielo vado a prendere Potrebbe essere pericoloso Per me andare lì così eh Potrebbe segnare la mia fine Però dato che tanto qui È mezz'ora che stavo sparando E qualcuno potrebbe anche Avermi puntato Ah ma poi c'ha il medaglione È vero perché Gli stava curando senza far nulla Che mirino c'ha Quello Quello per quattro Quindi lo cambio con questo qui Ok Va bene Prendere un altro ancora di cecchino Mi sembra abbastanza inutile Tenerne tre Eh raga Qui io C'ho paura che qualcuno Ci sia eh C'ho una gran pa Oh aspettate Io nel dubbio le apro Raga io nel dubbio le apro Mi faccio percentuale easy Così Nel dubbio le apro No 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 Ok Lo sapete perché no 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 Perché io In realtà Cosa sto vedendo Che fight ho visto raga Se 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 mi fossi editato prima Se mi fossi editato prima al muro Raga me li bombavo Stavano lì fermi a spararsi col pump Che cosa brutta che ho visto Mamma questo stavo che prende Che cosa brutta che ho visto Madonna se mi fossi svegliato Leggermente prima In realtà sto aspettando più che altro tipo per degli shieldoni Se li dovessi riuscire a trovare Non sarebbe male Ok Vabbè colpi cieco ma in realtà fortunatamente eravamo messi bene Qui altri shield Qua uno che si è buildato di brutto Con qualcuno che si stava sparando raga No 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 questo è il Kakashi regà No se lo killo godo No 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 però c'è gente dietro Parecchia gente dietro Mannaggia era scoperto dall'alto ok Tensione Si pushano? No non si pushano Io però raga cerco di rimanere qua sopra Ma io raga Cioè sapete vi dico per 5 di vita un medikit me lo faccio C'è un 8 e sono anche in safe Quindi col cavolo Me lo faccio proprio in pietra sto fortino E mi ci collego anche meglio alla montagna Perfetto Vabbè un altro medikit non lo spreco comunque Ok raga Oddio 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 Ok Ci siamo svegliati Dopo 7 ore di vita di video ci siamo svegliati Finalmente Allora Tra l'altro col mirino quello da più vicino Eh la raga sarebbe interessante vedere quando qualcuno si scopre Perché si stanno scoprendo spesso lì Vedete Però non mi posso scoprire così nemmeno tanto Più di tanto io eh Nemmeno io mi posso scoprire così più di tanto Perché la cecchinata come la posso da io Me la possono dare pure loro Allora Ma perché ricarico ogni colpo? C'ho proprio il tic Ragazzi C'ho proprio il tic Il tic dei vecchi cecchini C'ho uno anche proprio qua sotto sotto eh Eh raga si Ok Mi sta spostando non ho capito perché Eh vabbè Non lo piglio più Peccato si era scoperto Poteva essere particolarmente comodo per me Pittarlo Non era così difficile Ok Questo si sta rimuovendo 116 Eh vabbè raga è troppo lento Il double cecchino per fare una cosa del genere E poi non posso neanche Iniziare a Pressare con Con un assalto E' quello un po' che mi manca In questo game ovviamente Troppo Eh Oh no Quello ogni tanto si dimentica di coprirsi Di coprirsi sopra Eh vedete tipo qua Questo qua con l'assalto L'avrei pressato E avrei continuato a sparare Pure questo E si è messo sotto la cupola Così Eh Vabbè Eh la challenge di oggi Che ce devo fa? Eh eh Se no non fare le challenge Ok Allora io mi devo muovere alle spalle In realtà Quello poverino Stara smadonnando Perché No raga Dovevo mirare con quest'altro cecco Ho sbagliato cecco Di nuovo raga L'abbiamo hitato Come devo muovere pure io eh Ok Ok mi ha dato la kill Di quello che stava in tempesta Let's go raga Let's go L'aquila dei cieli No L'aquila dei cieli di Fortnite Che però non sa buildare Che però non sa buildare Allora Fermi tutti Io non ho capito quest'altro dove è andato eh Non l'ho capito raga So solo che però mi devo muovere un sacco Mi devo muovere veramente un sacco E mi devo muovere in questo momento Che sta per partire la tempesta Ma da dove mi hai hitato? Da dove mi hai hitato raga? E' bella di voi che potete Parare con delle armi Normali No raga Ma che è laggato? Vabbè non l'avrei mai preso Però Allora Io però mi volevo fare lo shieldone Eh quello raga mi ha visto di brutto Ok Eh Io non so se sto in safe eh Io non so se sto in safe Infatti no Mamma mia Non è morto Eh raga Devo un attimino abbandonare Eh raga Mannaggia la miseria Mannaggia la miseria Ragazzi Che game che era uscito fuori Dai Non ci posso credere Non ci posso credere Ragazzi Pure quello mi ha preso al volo E poi ovviamente Mi hanno iniziato a sparare Tutti e due insieme Che sfiga Dai Eh neanche troppa Percentuale in realtà Ma io ne proverei a fare un'altra ragazzi No non lo so Cioè sento che possiamo fare ancora di più Poi come va va La lasciamo stare Comunque raga ve lo dico Sta uscendo fuori un gioco per un'ora Con i cecchini ranked Che poi tra l'altro era anche uno degli episodi Che volevo fare Cioè non ho Non ho esattamente il conteggio Di quanto stiamo giocando Però siamo a 50 minuti e passa di registrazione Ok raga Qui lo stiamo trovando sempre il cecco Solta proprio senza mirino Mmm Male Male Molto male Soprattutto perché adesso sono ancora più costretto A trovare un altro cecchino Vabbè però c'ha delle buone caratteristiche C'ha delle buone modifiche scusate Oddio raga Nel giro di un paio di cesto ho trovato Sia il rampino che altri impulsi Quindi non male Non male Non male Però abbiamo ancora pochi colpi cecco E solo questo qui che non ha mirini Raga Ma mi era sembrato di sentire qualcuno Ma Oh mio dio è riscomparso Mi ha segnato i passi e poi è riscomparso Mi era sembrato di sentire dei passi Però non ho visto nessuno Finché poi non me li ha segnati Ma tipo ci dovremmo essere passati A un metro di distanza eh Perché a un certo punto l'ho sentito proprio vicino Oh mio dio ma che è Comunque raga io sto cercando Sto cercando Sto cercando Ma non trovo niente Ancora pochissimi colpi E soprattutto ancora solo con questo cecco qui Allora io provo ad entrare nel bunker Se riesco Per vedere se Eh se c'è qualcosina Ma ovviamente no Perché sto iniziando a cercare raga Nei loot degli avversari morti Oh raga La scorta Oh mio dio Oh mio dio Madonna raga Oddio Era l'unico modo che avevo per ucciderlo E per sopravvivere Letteralmente L'unico Che poi raga Cioè Io non so se l'avete capito Perché mi sono girato Io non mi sono girato perché ho sentito lui Io mi sono girato perché è sponata la scorta Cioè se no ero proprio morto Ma mortissimo Non ce posso credere Madonna comunque Che kill che gli abbiamo fatto a questo Eh però raga Non ho trovato quello che cercavo Eh non l'ho minimamente trovato quello che cercavo Ovvero un cecco O colpi cecco Perché pure questo raga Ce ne aveva pochi dei colpi cecco Eh ne aveva proprio pochi Eh raga Stanno fightando lì ma Cioè Quello sta anche fermo Ma non lo Cioè Non lo vedo molto bene Ecco Quindi diciamo che Porca miseria Eh qua raga Se avessi avuto veramente un mirino Non dico che gli facevo l'headshot a quello Ma Molto probabilmente Lo avrei preso Eh ma Oddio Secondo me non gli siamo andati troppo lontani Né prima né adesso Eh raga C'ho uno qua davanti Che sinceramente Se si dovesse fermare Un secondino Potrebbe non essere male Però Non mi vorrei neanche far sentire No no Ok non mi ha sentito Spero C'è uno Un altro lì con la moto Mmm Mmm Non so se tentarla eh E vabbè niente L'ho assaltato proprio in quel momento Maledetto Vabbè ha pushato l'altro però Spero non si rigiri per pusharmi Per un attimo Ho pensato di sì Ah ecco perché Mmm Troppo in alto Però pensavo risaltasse Ce n'è un terzo Eh raga però Cioè senza il mirino Che mi si avvicina un po' È veramente tosta eh Eh mi rimane solo una cosa da fare raga Provare ad andare sotto da Jonesy Il problema raga è che Se becco qualcuno sotto Io non riesco più a scappare Cioè mi sono appena andato a ficcare In una trappola per topi eh Se becco qualcuno qua sotto Sono morto Mamma mia raga Cioè vedete perché non sono venuto qui A fare la challenge oggi Perché Cioè è praticamente il punto Forse più contestato Del Del gioco In questo momento Ok Allora adesso abbiamo un mirino Fortunatamente Ce ne sarebbe anche un altro eh Qual è questo Ok quello per due No 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 Preferisco senza paradossalmente Che quello Con quello non riesco proprio a regolarmi Poi per carità Devei colpi L'abbiamo fatti anche con quello eh Però regà vi giuro No Il problema Mo so i colpi Il problema rimangono i colpi Infatti devo sperare che magari Non abbiano lutato bene Qua al magazzino Che qua si luta abbastanza bene Anche di colpi La cosa bella È che sono full Di tutti gli altri colpi Del cieco Ne ho solo 22 E non me No dai Cioè neanche la La super chest di munizioni Me la date I colpi cieco Cioè neanche la super chest Sul serio Raga a me Sti colpi non bastano Per l'endgame Ma proprio Zero Zero totale Allora un'altra super chest di munizioni E di nuovo niente Ma stai scherzando? Oh vabbè raga Palesemente un troll Palesemente un troll Nei miei confronti Ok Andiamoci a prendere Una posizione migliore Però Veramente Raga adesso è tosta Un solo 22 colpi eh Ok Questo palesemente Mi vuole continuare a sparare Non è buonissimo È safe Sapete eh Non mi sta piacendo troppo Eh vabbè Te pareva Te pareva Vabbè no In realtà non è neanche troppo lontana Pensavo fosse proprio dall'altra parte Ah quello che mi ha provato a sparare È questo Che tra l'altro è quello a cui ho provato a sparare io prima Mi ha visto? Penso mi avesse visto Va bene Comunque Andiamoci Anche perché in realtà Sto colpo non lo dovevo sparare Sia perché ne ho pochi Ma anche perché così mi son fatto sentire Raga Raga No 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 Speravo fosse un headshot Madonna Non ci credo No Regà Dai Peccato Peccato E qua c'è una brutta rotation Però eh Qua c'è una brutta rotation Che perché Vi pare che non c'è nessuno qua Ne dintorni C'è palesemente qualcuno Anche qui Dai Ah quelli lì stanno ancora a faità Non Questo si era fermato un attimo Ma mannaggia a me Ma che era sto brutto colpo Quello di prima eh Quest'altro già era un po' più difficile Eh regà ma io non Io sto a sparare come se nulla fosse ma Sto finendo i colpi Gigi stai finendo i colpi Devi stare un attimo buono Allora Eh si è coperto subito tutto Eh Eh Ma perché ogni tanto Regà io ultimamente ho troppo la sensazione di hittare la gente Ma i colpi non entrano Ma troppo 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 Ma in che senso Ma vabbè Eh raga passi qui Eh ma c'è Eh regà sta proprio qua Questo sta proprio qua Ah in realtà noi non siamo messi male Se non ci fosse stato nessuno Qui Al mulino Questo lo devo provare a killà Però mi devo coprire anche da di là Ah se riesco a killare questo Siamo a cavallo Ok Ok Raga No Ma con chi ce l'ha? Con qualcuno qua sotto? Ma gli sta ballando tipo? Vabbè Cioè gli è entrato anche l'hedgehot Non so se l'avete capito Gli è entrato anche l'hedgehot Gli è entrato Ah facciamo una cosa Sono Sono abbastanza stupido Sono abbastanza stupido Ho preso malissimo le misure Pensavo la safe fosse un po' più di là Invece era totalmente di qua Va bene Pensavo si muovesse di là Ho 12 gol 12 15 Sì Vabbè 15 colpi 110 Mamma mia Quanti 110 Stiamo facendo raga Totalmente inutili Quest'oggi In altre situazioni Sarebbero stati almeno un po' utili Perché gli fai il 110 Poi gli spari Qualcosa cerchi di fare Oggi totalmente inutile Fare il 110 A qualcuno Gli sta provando ad entrare Nel box Dai Mannaggia la miseria Mannaggia No mi serve per forza lutare Mi serve per forza lutare Devo sperare che qualcuno muoia E io adesso per andare in safe Devo passare sul Cadaveri di qualcuno Eh però quello sta ancora lì Raga Eh ma che devo fare Eh no raga devo fare così Devo fare Allora Tac Tac E si vola Non è che c'ho Tante altre soluzioni Eh Eh Passi Passi ovunque Letteralmente No Ma porca miseria Ma ti aggrappi Un po' più su Oppure che devo fare C'è Ah vabbè Non mi stai pushando Vero Non lo so Ma nel dubbio Me ne devo andare Ah ragazzi Che tosto Sto endgame Regà Facciamo solo 110 I nostri carissimi avversari Eh no più che altro Regà Questi si stanno a coprire tutti Stanno tutti a traierda Forte 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 Lì adesso si devono muovere Tipo tutti Cioè Ok Eh vabbè Ho capito Ma state tutti Super mega shieldati Cioè fatemi capire Tutti super mega shieldati Raga Tutti Cento e passa Tutti Eh Tutti però Che nessuno muore Ok Raga Io per forza Cioè sto andando avanti Di impulsi E di nuovo Vabbè Sempre all'altra parte Grazie Oddio A meno male Che era il mio Oh mio dio Sì top 3 Regà Ma non c'ho colpi Cioè top 3 Ma non ho colpi Ragazzi Ok Eh vabbè C'ho gli ultimi 5 Ma Madonna regà Di quanto Che È successo No Però Ragazzi Se lo killavo In No scoop E vincevo così Mi sentivo male Non ci credo Regà Non ci credo Abbiamo pure vinto Ma con quante kill Mi sa una sola Quella figa Che abbiamo fatto In headshot Prima È una sola kill In endgame Avrei potuto fare Molte più kill Ragà Ma non mi entrava Un headshot Tutti sul corpo Mannaggia la miseria Ma che è Incredibile ragazzi Abbiamo fatto un botto Di percentuale oggi Detto questo ragazzi Mi raccomando Lasciate un bel mi piace Soprattutto per quello Che è successo In una partita di prima In questa Cioè praticamente Di tutto Peccato che in questa partita Avrei tentato Molte più cecchinate Ma con i pochi colpi Ne sono dovuto Tene un attimo fermo Vi ricordo Il codice creatore GGY Non ti tutto grande Tutto attaccando I negozi oggetti Di fortnite Fondamentale Per supportarmi Iscrivetevi al canale Se ancora non l'aveste fatto Consigliatemi altre challenge Da fare sotto nei commenti Per me è tutto Ci troviamo domani Con un prossimo video Qui sul mio canale Ciao ragazzuoli